la mia ricetta per un ottimo ragù tre tipi di carne in parti uguali maiale salsiccia e manzo passato a tritacarne possibilmente una volta sola poi va fatto un battuto di sedano carote cipolla uno spicchietto d'aglio va fatto soffriggere con la carne vino rosso concentrato di pomodoro sale e appena un po di noce moscata